E' la partita, la finale è un segno maschio, 10.000 metri ad eliminazione, 25 giri del percorso, a meno 20 sentiremo il suono la campana, a meno 14 ci sarà la prima eliminazione. Tutto il gruppo in Perigna, vediamo gli atleti della Polespasiva di Bellusco a condurre, ma un po' comunque compatto, una natura abbastanza sostenuta, non più di tanto, perché la gara comunque è lunga e devono mantenere le forze per la fase finale. Prossimo passaggio, 22 giri a termine. Questo momento è passato a condurre l'atleta della gruppo patinatori mobili Cantù. Moritoli, arriva in posizione, seguito da compagnia di squadra, ma comunque è preso per definire le posizioni. E' stato subito uno scampio di posizione, sono i due atleti della Polespasiva di Bellusco a condurre in questo momento. Allora, la roba scampalosa, potete qua a trasciudare così, è meglio, è meglio, è meglio. Amunque, il gruppo gruppo di Perignana, Aspetta, eh! Piccolo a lungo, cominciano a pagare le forze. e il gruppo cominciano a pagare le forze. E il gruppo cominciano a pagare le forze. Vai Luca! Vai Luca! Vai Luca! Vai Luca! Vai Luca! Vai Luca! Luca! Oh! Oh! Mi você è rotta! No! Non! Non! Non, non! 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 Il passaggio di tutto dire a termine, sempre gli atleti dalla Polispartietà a Tellusco a condurre e parte l'atleta ormai attrazzato, quindi per quanto riguarda le prime eliminazioni diciamo che la storia è già definita. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 Salto un'altra eliminazione per il portaggio di una tetra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.